Può infondere entrambe, però io credo nella speranza, la speranza del cittadino di poter portare avanti un ideale, di renderlo concreto e che sia un ideale libero, ma che continui comunque sia a rispettare dei fondamenti in modo che una libertà finisca dove inizia quella di un altro e che tutti gli si aiutino a vicino.